Salve e ben ritrovati dal Caglio d'Uilio. Nella giornata odierna, un flusso di umide e correnti sud-occidentali apporta un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dalle aree tirreniche. Temperature rialzo specie sulle aree ioniche, venti moderati con rinforzi tra Libeccio e Ponente, ma in genere molto mossi. Sabato 20 gennaio. Una perturbazione proveniente dal nord Europa tende a lambire le ragioni triatiche e il sud, innescando marcate condizioni di stabilità atmosferica. Scarse precipitazioni nella prima parte del giorno in tutto il sud Italia, ma sostanzialmente assenti in Sicilia. Le temperature in diminuzione con massime di 14 gradi e minime di 12 gradi. Venti in rotazione dei quadranti settentrionali con picchi massimi di velocità di 40 km orari. I mari, per via dei venti sostenuti, si presenteranno da molto mossi ad agitari, spesso sul tirreno. Domenica 21 gennaio. I venti settentrionali che seguono la perturbazione apporteranno marcate condizioni di stabilità atmosferica, specie tra Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale, soprattutto nel Perermitano e nel Messinese, ove sono attesi rovesci intermittenti anche a carattere temporalesco al mattino. Nevigate sui rispettivi rilievi, con quota e rapido abbassamento dalla sera, quando tenderà a destestarsi fin sotto i millimetri di altitudine. Temperature dunque in diminuzione con massime di 12 gradi e minime di 10 gradi. I venti saranno ancora provenienti dai quadranti settentrionali con forti raffiche di tramontana. I mari risulteranno dunque molto mossi o agitati, specie il tirreno. Dal Caio Duile è tutto, M e la rubrica Tempo di navigare rinnovano l'appuntamento alla prossima settimana.